Dopo un anno di stop a causa della pandemia la fiera dell'agroalimentare più longeva ad Abruzzo torna al porto turistico Marina di Pescara con 31 espositori, 5 rappresentanti della grande distribuzione organizzata nazionale, circa 50 cuochi non solo dell'Abruzzo ma anche della Puglia, Molise, Marche, uno giusto mix tra visitatori ed operatori perché se è vero che le produzioni enogastronomiche abruzzesi sono sempre più apprezzate, è anche vero che il mondo della ristorazione ha subito delle perdite importanti. Questo ed altro è mediterranea giunta alla 35esima edizione. La 35esima edizione è un numero importante, è una ripartenza dopo un anno di stop del 2020. Abbiamo cercato quest'anno insomma di mettere al centro quelle che sono le nuove esigenze dopo la pandemia, ci sono tutti i prodotti tipici del territorio, tutti i prodotti abruzzesi, abbiamo invitato per lunedì la ristorazione, il mondo del dell'enogastronomia e quindi faremo un incontro tra la produzione tipica e l'enogastronomia così come i canali moderni della distribuzione. Quindi stiamo cercando di riconsolidare quello che era il business pre-pandemia cercando di crearne anche nuove. C'è un format anche diverso rispetto all'accoglienza, al layout, una grande partecipazione. Insomma speriamo che in questo periodo post-pandemico o quasi post-pandemico questa manifestazione dia un là alla ripartenza. Il nostro ruolo è promuovere le nostre attività, la nostra presidenza sta sviluppando da anni che è il nostro presidio dei territori. Quindi della piccola media impresa, la migliore che c'è è quella che produce prodotti di origine tutelata ma anche quella che produce buoni prodotti del territorio e che riteniamo essere la chiave fondamentale per lo sviluppo dei prossimi tempi. È difficile fare questa attività perché il territorio è molto capillare. Noi lavoriamo su tante regioni, lavoriamo dal Friuli alla Puglia e quindi i territori sono complessi, i fornitori sono complessi da trovare. Quindi c'è un problema organizzativo molto difficile per la grande distribuzione per andare a scovarli, a trovare i migliori, a metterli in assortimento. Quindi è un'attività organizzativamente difficile per questo lo sviluppo sarà lungo. Noi oggi abbiamo già tanto, abbiamo già una tradizione legata a questo in particolare per il sostegno del reddito di queste regioni che è la nostra mission.